Ciao ragazzi sono Falconeuro e oggi sono qua finalmente con Dragon Ball Z Kakarot Per levarci il dubbio su quello che è uno dei prodotti più promettenti di questo primo periodo dell'anno E speriamo che possa effettivamente essere all'altezza delle nostre più rose aspettative Eeeh andiamo Vi anticipo già da ora che il gioco potrà arrivare nei prossimi giorni Tanto su Youtube quanto su Twitch Per cui se siete interessati ad approfondire Seguite entrambi i luoghi Detto ciò andiamo Senza... sta fatta a te ghiacchiere così Sono curiosissimo Allora in questo mondo esistono sette globi magici chiamati Sfere del Drago Chiunque le raccolga tutte può vedere se ha udito un suo desiderio Questa storia per quanto strana inizia proprio da queste sfere Comunque è una storia che avremmo vissuto 500 volte Ma io non riesco a non amarla e non volerla rivivere ogni volta E questa forse è la grande magia di Akira Toriyama Che è alla base di tutto poi Iscriviti e ... ma no la donna che era il ca ha i testi molto a così secco allora quali vedete avuto lt per parata esplosione super spinta caricamento aura attacco colpo dell'arte vabbè poi intanto gradualmente si faranno tutte chiare queste cose grilla attacchi speciali con lp attacco evanescente grilla supporti grilla trasformazioni vabbè troppe informazioni per il momento per cui intanto vediamo che succede allora il grado di di realismo o meglio di fedeltà che hanno raggiunto dunque 24 ormai sembra veramente di vedere una puntata dell'anime carichiamo carichiamo guardiamo guardiamo io vorrei però da che ci sono mi sposto di qua così vedete ecco così siete sicuri di vedere tutto allora è super spinta adoro la schivata fallo fallo no mi sarei spostato è stanco è stanco è stanco è è carta forbici sasso non me la ricordo carta forbici sasso che sapete che il combat system del gioco non è affatto male bisogna prenderci un po' la mano ma lo preferisco rispetto a quello di xero verso calma super spinta io lo starei facendo ma non arriva calma calma solo che sarebbe accaduto allora il tuo indicatore di tensione si riempie man mano che subisce un fliggi danni quando il indicatore di tensione alla tua aura sono al massimo del premuto y per attivare l'effetto scarica mentre questo effetto è attivo le tue statistiche aumentano può interrompere attacchi speciali il combo in mischia per eseguire altre azioni e anche insegura automaticamente gli avversari sbalzati via l'effetto scarica ti permette di unire attacchi normalmente impossibili da concatenare e di fare cose come scagliare più kamehameha a raffica sono al massimo no ci siamo e smette di scarciarmi via maledetto oh così ce l'abbiamo fatta una volta per tutte è fatto bene allora quindi l'arco narrativo inizia da qui come era giusto che fosse il piccolo song rock è sconfitto il grande mago piccolo che puntava la conquista del mondo sono andati a scorsi cinque anni dalla sua vittoria diciamo che questa parte qui l'hanno l'hanno molto ridotta all'osso quasi come a farla rappresentare un banale tutorial e la saga dei saiyan è quella da cui parte il tutto curioso di vedere la parte esplorativa perché il combattimento nel senso tempo di prenderci un po' la mano e credo che possa garantire grandi soddisfazioni voglio vedere il resto quello quello si sarà importante è 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 ...d'ora di Sieradits. ...d'ora di fare più di più di questo. ...d'ora di aver guardato, non mi ricordo di aver guardato. ...d'ora, mi ricordo. ...d'ora di aver guardato il mio figlio, Caccarotta, che era il mio figlio di un altro figlio. ...d'ora di aver guardato il tuo figlio? ...d'ora di avere dei suoi figli di Sieradits? Poi mi piacerebbe che ci fosse anche tutta la saga di Bardak, eccetera... Magari con qualche DLC, chi lo sa. Io comunque a 13 anni sarei impazzito per sto gioco. Per quanto anche i Budokai Tenkaichi non fossero male. Siamo di 1, 5, 6, 6, 9. A vostra e vedi, non si non si trovi a casa. Sono venute a fare la tua! Oggi non si trovi a casa. Il è un po' di un po' di chi. A chi è un po' di chi? Ma che è un po' di chi, è un po' di chi. Perchè, è un po' di chi. Sì, sì, sì. Gli ingredienti? beh niente nalsi allora oh quindi esami una palla voce un buon accelerato griglia veicoli guida scendi sul campo troverai molti oggetti diversi avvicinandoti a loro li raccoglierai automaticamente ma nel caso di oggetti importanti dovrai premere B Raccogli tutto il cibo che trovi perché potrai mangiarlo per ottenere dei bonus O usarlo per preparare vari piatti e ottenere effetti di supporto Questi saranno molto utili quando dovrai affrontare avversari particolarmente ostici Quindi riempiti lo stomaco regolarmente Vabbè questo l'abbiamo detto nel video Poi che vi ho fatto qualche giorno fa Allora raccogliamo le mele Allora c'è una mappa più ampia? Sì Quindi abbiamo detto Poi appunto nel video di qualche giorno fa Il gioco non è open world però ha dei vasti ambienti esplorabili E tant'è che appunto sembra che effettivamente ci siano Qua c'è questa zona qua Questa forse è casa di Goku? Sì casa di Goku Manca a farla apposta Montagne sud orientali Il villaggio Kaylin Orange City E vabbè Quindi insomma è bello ampio l'ambiente qui Vabbè Vabbè Che Certo Dov'è Gohan? Mi sono perso Gohan? Ah no, eccolo! Ma ne sta cercando Gohan alle mele? Scatto, salto! Che è particolare, è lo stile grafico anche. Dai Gohan, su! Andiamo al dunque. Graficamente su Xbox One X, che è dove lo state vedendo, devo dire che... Fa la sua porca figura, sarei curioso! Di sapere da parte, magari, di chi ha il gioco su altre piattaforme, com'è lì. Quindi... Dai Gohan, animo! Con quelle gambine! Eh, figlio mio, sto qui! Se lo prendessi in braccio, lo faremmo prima. Ciao! Come si è pronto? Mi sono stai freddo... Non andrò... Non è vero... Alla... ...dà... 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 Sì, allora ho provato il tuo padre. Non è vero che non è nulla. Tu sei, cosa vuoi essere più grande? Eh, beh... Io voglio essere un grande giro. Eh? Tu sei cambiato? Sì, non c'è nessuno. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Allora, proviamo a fare una piscina. Allora... Tesca. Allora... Me la ricordavo diversa la pesca, una volta, però va bene uguale. Allora... 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 Pin... No, pesce gigante magro. Ecco... Più un per cento di difesa aura. Un taglio magro di pesce gigante sostanzioso e appagante. Sì. Sì. Ok. P.S. Aura del gruppo totalmente ripristinare. P.S. 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 Sì, anche se mi è piaciuto molto Se non si fai tanto, non si fai più grande, non si fai più di me, non si fai mai Ah, ah, ah 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 Ok Allora, gli emblemi anima sono oggetti che rappresentano i legami fra i personaggi e possono essere ottenuti avanzando nella storia Gli emblemi anima che ho ottenuto sono visibili nemmeno in comunità Gli emblemi sono inutili da soli, ma assegnandoli a una bacheca comunità puoi attivare abilità che ti saranno utili nelle tue avventure Hai ottenuto Goku, leader della comunità di Guerri Z, hai sbloccato una nuova bacheca comunità Ok, c'è una marea di roba Gli bacheca comunità sono il luogo in cui usare i tuoi emblemi anima, puoi assegnare o rimuovere gli emblemi quando vuoi, quindi ricorda di assegnargli a una bacheca ogni volta che li trovi Puoi assegnare un emblema anima a una bacheca, devi solo premere A nel menu emblemi anima e selezionare quello che vuoi assegnare Il grado di una comunità è influenzato dal livello generale della comunità dato dagli emblemi anima assegnati Quando una comunità raggiunge un certo livello generale, il suo grado aumenta e puoi accede alla nuova abilità comunità che forniscono effetti molto utili per la tua avventura Dato che il livello generale di una comunità dipende dal livello degli emblemi anima e messa a essa assegnate, puoi anche ridurre il grado di una comunità aggiungendo in un momento gli emblemi Gli emblemi anima possiate un livello comunità che influenza la comunità in cui vengono assegnate, alcuni emblemi sono più adatti a determinate comunità piuttosto che ad altre Segnandoli a certe comunità è possibile aumentare il livello comunità massimo, aumentando la capacità, aumenta anche il livello di una comunità, vabbè, insomma Fare doni dal menu comunità, dalle schermate emblemi anima aumenta la capacità di una comunità, oggetti diversi aumentano la capacità di una comunità diverse Vabbè, insomma, direi che possiamo... l'amicizia influenza le prestazioni di un personaggio di supporto in battaglia E qua, punto, poi vedremo Eeeh... sì Allora Ok, squadra padre figlio definitiva Posizionando specifici emblemi anima una accanto all'altra attiverai un cosiddetto bonus legame che incrementa il livello della comunità e rende più semplice aumentare il grado Eeeh... vabbè, insomma, se uno conosce Dragon Ball sa bene chi associare a chi E se non lo conoscete imparerete a conoscerlo giocando Allora, i parametri amicizia e capacità degli emblemi anima possono essere incrementati tramite i doni Vabbè, insomma, bisogna regalare le cose giuste alle persone giuste per far sì che aumenti il loro livello Quindi Se Oh, la comunità è stata di un livello Questa fase... buonanotte Questa fase... un sacco di spiegazioni, veramente tante Sì Ok, se oh dunque le sfere zera sono essenziali per ottenere nuovi attacchi speciali quindi raccogliere più che puoi il colore delle sfere è legato alla zona in cui si trovano ok vabbè tutto chiaro ma per alzare ah ecco ok quindi con RB si sale e con LT si scende allora parla con Kiki e chiedile di prepararti il pranzo sai con te frutta pesce latte credente vabbè può cucinare insomma questo già lo sappiamo adesso che leggiamo ogni minima cosa sennò affittiamo dopo domani prepara un piatto pesce bollito ci da più 15% di pesa aura più 50 ps e cavolo aumento di stato e effetto pasto setaccia la casa per mettere alla prova i suoi nuovi allievi il maestro Uden lancia nella foresta una pietra su cui aveva scritto l'ideogramma di tartaruga dice poi ai due che solo che gli riporterà la pietra potrà avere la cena mentre l'altro andrà a letto da digiuno Goku trova la pietra ma Krilin lo ingana e gliela sottrae torna poi di corsa da un maestro pregostando la cena ma notando una brutta sorpresa no vi beco c'è l'Encycopedia Z sarà su storia no ah vedi 15% del 0 scusate no io vorrei vedere qualcosa che abbiamo già sbloccato ah vabbè ok comunque è impressionante cioè è un gioco che vuole veramente essere il gioco definitivo di Dragon Ball per gli appassionati da quello che appare sono questi anche riferimenti al pre Dragon Ball Z fatti impacchettare il pranzo bene ragazzi io direi che per adesso come primissimo video introduttivo considerando che abbiamo visto un po' di esplorazione un po' di attività secondarie un po' di combattimento e la narrazione una prima idea ve la sarete fatta fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se volete vedere di più qui su YouTube o se prevede che lo giochiamo su Twitch in maniera un po' più libera fermo restando che tanto poi comunque tutto lo ritrovereste su Extra Falco per cui fatemi sapere io intanto vi posto questo video voglio che sia che vi arrivi il prima possibile considerando che abbiamo avuto la possibilità di provarlo con un po' d'anticipo e fatemi sapere così ci organizziamo per il meglio per cui in realtà ragazzi un abbraccio a tutti e noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao